Poi lo stiamo mediato contro Riccione. Ebbene, allora, state bene a sentire, per Riccione si sono presentate due squadre e quindi non si sa al momento quale delle due dovrà giocare la partita. Abbiamo mandato Marco Nardi a vedere che cosa è successo, il perché di questa curiosità che credo sia un record o quasi, non so, a memoria non mi ricordo che sia mai successo altre volte che si siano presentate due squadre contemporaneamente per voler giocare la stessa partita. Marco Nardi. Sì, buon pomeriggio dalle poraia di Pontegola. Hai detto bene, Maurizio, qui non si sta giocando, tra l'altro lo stadio è tuttora ermeticamente chiuso, i comissari di campo non danno l'accesso né al pubblico né a noi giornalisti né praticamente a nessuno. Si dovrà decidere su questa strana di atriba. Si sono presentate due squadre del Riccione per giocare la partita contro il tutto cuoio, prima del campionato di Gironi Lidio e del campionato nazionale di Vettanti. Entrambe accampano il titolo di poter giocare questa partita, ma fino ad ora non si riesce a capire chi delle due dovrà giocare se si giocherà, perché circola anche la voce che probabilmente la partita verrà rinviata. Era un po' nell'aria questo discorso, dai giorni si parlava che forse sarebbero arrivate due squadre, si pensava magari che non fosse se non una bufala, ma probabilmente una specie di scherzo, invece oggi regolarmente si sono presentate queste due squadre del Riccione. Io qui con me ho il collega Luca Calò della Nazione, che in pratica anche lui sta cercando di capirci qualcosa in questa strana situazione. Fra l'altro dicevi tu, prima ci sono stati altri precedenti di squadre che si sono presentate in due a giocare contro il stesso avversario, una è la Cisco Roma, magari lo chiederà meglio Luca Calò, e un'altra è anche la Ceresese che qualche anno fa a livello di campionato di promozione accampava due squadre che avevano il diritto per giocare questo campionato. Un attimo solo e che vi passo Luca Calò. Sì, buon pomeriggio a tutti. Come diceva Marco, abbiamo trovato una situazione paradossale, ma forse anche preventivabile, nel senso che almeno i colleghi del Carlino, dell'elegazione di Dini ci avevano un po' paventato questa situazione, anche se anche lì non si pensava che si arrivasse a questi punti, anche perché c'è entrato nel dettaglio la squadra che in questo momento è fuori e che diciamo è detenuta dalla nuova proprietà, in teoria è quella che ha già giocato due partiti ufficiali in Coppa Italia di serie di contro il Bellario e contro la Bispetro. Quella che è dentro, invece, che è arrivata circa mezz'ora prima a Ponta Evela, intorno a luna, subito dopo pranzo, non ha praticamente disputato partiti ufficiali in questa stagione ed è quella che diciamo è riconducibile alla vecchia proprietà, alla vecchia presidenza di Enriccione che imputa ai nuovi proprietari sostanzialmente di non aver onorato quelli che erano impegni economici. L'inghippo dove sta? L'inghippo sta che dal punto di vista federale tutti e due sono in regola, perché tutti, circa 35 giocatori che ci sono qui a Ponta Evela, fatti quelli già dentro lo spogliatoio, e quelli fuori hanno regolare tessera federale. Allora, fateci capire, che cosa succederà? Si giocheranno? Succederà che, secondo quello che si è appreso, dal punto di vista federale si potrebbe giocare. L'arbitro dice, presentati in una lista di 18, poi per il resto sono sostanzialmente affari vostri. La sensazione è che con la questione di ordine pubblico e per il pietro vivere non si giochi e poi si rimane tutto alla disciplinaria. Va bene, allora Luca e Marco, io devo staccarvi perché ho le altre partite che stanno iniziando. Ci sentiamo fra un po' e così ci direte cosa succedeva. Noi siamo qui e vi saremo informati. Va bene, grazie. Allora, andiamo sugli altri campi dove invece si gioca. Questa anomalia, lo diciamo, a beneficio di chi si presentesse solo adesso all'ascolto, che praticamente tutto quello doveva giocare contro Riccione, fino a qui tutto regolare. Il problema è che da Riccione sono arrivate due squadre e tutte e due volevano giocare. Allora, sentiamo Marco Nardi che abbiamo inviato sul posto. Sì, praticamente niente di nuovo sotterizzore, ma purtroppo invece è stata pioggia. In verità non c'è ancora deciso assolutamente niente, il comissario di campo sta contattando fedelmente la riga nazionale di Nettanti per cercare di venirne a capo, ma sinceramente è molto molto difficile. Stadia ancora chiuso, nessuno può entrare, questo per disposizione appunto del comissario di campo. All'orizzonte appare, a mio avviso, che la partita probabilmente non sarà giocata. Speriamo magari fra qualche minuto di riuscire a capire di più. Hai detto bene, Maurizio, si sono presentate due squadre, praticamente la stessa squadra, la stessa società divisa in due, perché ci sarebbero delle riattive fiscali fra dirigenti della stessa squadra e ognuno accampa il titolo di poter giocare questa partita. E non si riesce sinceramente a capirne a venire a capo. Abbiamo sentito le diverse campagne, ognuno sembra aver ragione, però chiaramente noi non siamo addentro al problema. Possiamo solo aspettare e magari sperare di darvi una efficienza. Allora ci farai sapere te qualcosa nei prossimi minuti, d'accordo? Grazie Marco. Allora intanto torniamo sui campi dove invece si gioca. Il campo del Leporaia Tutto Cuoio sta mignato per questa partita o non partita tra Tutto Cuoio e Riccione. Vi ricordo che sono presentate in due squadre da Riccione. Tutte e due vogliono giocare. Sentiamo le ultimissime. Marco Nardi. Ecco, è proprio l'aggiornamento di un attimo fa. Il direttore di gara ha proceduto a riconoscimento di tutte e tre le squadre. Adesso si dovrà capire chi tra le due squadre del Riccione potrà giocare e se si troveranno d'accordo fra di loro chi cederà il campo. Io credo che in una partita non ci giocherà, ripeto. Comunque stranamente l'Avito ha fatto entrare entrambe le squadre, una del Riccione, una era già all'interno degli spogliatori, l'altra era ancora sul Puma, sono stati fatti scendere i giocatori, ascoltati per l'autore dei carabinieri, sono entrati dentro allo spogliatore e l'Avito sta procedendo al loro riconoscimento. Vedremo poi anche attraverso il commissario di campo che cosa succederà. Mi sembra una situazione abbastanza ridicola comunque. Prego? Mi sembra una situazione abbastanza ridicola sinceramente. Eh sì, io credo che forse De Kurtis o Verosotosis sarebbe stato bene oggi. Sì, sì, infatti. Però questa è la situazione. Vedremo fra qualche minuto che il piega prenderà e saremo anche più precisi. Al momento non ci gioca ma si sta solo vedendo l'arrivo del prepattito con l'inconoscimento dei giocatori. Tutti in campo, tutti in campo al momento. Tutti in campo. Va bene, restatemo a vedere. Grazie. pubblicità. Succedendo a tutto cuoio Samminiato per questa rocambolesca situazione contro il Riccione. Poi andiamo con i finali dai campi di primo tempo. Naturalmente Nardi, dimmi. Allora, intanto è ufficiale che la partita non sarà giocata. Ricordo che si deve giocare la prima giornata del campionato, il campionato nazionale delle tanti. Tutto cuoio Riccione, chiedo scusa adesso avevo un lapsus, e non ci giocherà. Perché in pratica delle Riccione sono presentate due squadre. C'è stato il conoscimento come dal regolamento da parte dell'arrivo di entrambe le squadre. Poi siccome non nessuna, tutte e due avrebbero voluto giocare, nessuna ha dato il permesso all'asta per giocare, quindi l'arbitro ha deciso di non giocare. E abbiamo qui Massimiliano Alvini, velocemente con lui. Un parere su questa strana situazione, Massimiliano? È una situazione assurda. Non penso che siamo all'accesso. Ci ritroviamo in questa situazione e in questo momento siamo anche... non si sa come va. Ci siamo parte l'esa perché noi siamo qui pronti per giocare. C'è due squadre che non si sono messi d'accordo per giocare. Io non so di genere, è assurda. Ci viene da ridere, però fa rabbia anche. Eh sì, chiaramente, insomma, è una scena un po', ripeto, come potrebbero essere i film di Sotò di qualche anno al dietro. Vabbè, vedremo magari in settimana quelle che saranno le decisioni del giudice sportivo. Ripeto, tutto cuoio Riccione non si gioca. Si giocherà invece una partita in famiglia della squadra del tutto cuoio, tanto per mantenere caldo il ritmo. Pensavo giocassero tra di loro le due squadre del Riccione, un amichevole, tanto per vedere. Eh, poteva essere un'idea di far giocare le squadre del Riccione, un amichevole tra di loro, ma credo che sia stato un problema soprattutto di ordine pubblico. Credo che siano tre punti per il tutto cuoio, assolutamente, questi. Ma questo non si può ancora dire perché la disciplinare vedremo. E chiaramente, come diceva Massimilio Nardina, è giusto. Il tutto cuoio è parte l'esa, ha mancato in casa, insomma. Ci sono diverse situazioni da sviscerare. Va bene, grazie Marco. Siamo per chiudere i primi tempi, quindi ti tolgo la linea, ma tanto lì non c'è altro da dire da quelle parti, avanti che...